Torniamo alla cronaca per un aggiornamento sulla situazione legata al cadavere che è stato rinvenuto a Montesilvano questa mattina presso l'acquadisco Splash, o meglio ciò che ne resta di questa struttura dismessa. Sul posto è arrivato il nostro Luca Pompei, vediamo se è collegato in diretta. Luca, allora, buon pomeriggio, intanto aggiornaci su quel poco che sappiamo, insomma, di questa misteriosa scoperta. Sì, buongiorno a Carmine, un saluto a te e a tutti gli amici telespettatori. Allora vi faccio subito vedere, noi siamo all'acquadisco Splash di Montesilvano, una struttura in totale disuso da decenni, ormai in completo abbandono. Ebbene, sono andati via poco tempo fa sia i carabinieri sia il personale sanitario che si è occupato di recuperare un cadavere in avanzato stato di decomposizione, trovato proprio all'interno di questa struttura che come vedete è in totale degrado. Difficile fare ipotesi perché il cadavere purtroppo era davvero in avanzatissimo stato di decomposizione. L'ipotesi più accreditata è che si possa trattare di un senzatetto o comunque probabilmente anche di un extracomunitario senza fissa dimora che era venuto qui a trovare riparo potrebbe essere deceduto per stenti, ma ecco è anche l'occasione per farvi vedere in che condizioni versa questa struttura che anni e anni fa era diventato un punto di riferimento per il divertimento soprattutto d'estate con i vari giochi d'acqua. Qua struttura poi chiusa e come vedete in totale abbandono proprio nei giorni scorsi il sindaco Ottavio De Martini si aveva firmato un'ordinanza per bonificare un po' tutta questa area. Il ritrovamento casuale questa mattina è venuto da parte di un custode e subito sono stati allertati i carabinieri. che sono venuti sul posto hanno effettuato la consueta ricognizione e il cadavere è stato portato via. Ripetiamo, non si sa né il sesso né si sa se ha alcuna indicazione per quel che riguarda l'età. l'ipotesi più accreditata che si tratta Carmine di un dramma della solitudine, probabilmente un senza tetto o un extra comunitario senza fissa dimora. Cercheremo di saperne di più ovviamente nel corso delle prossime ore se non nei prossimi giorni. A te Carmine.